Allora, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato, grazie di essere qui. Mi chiamo Stefano Principato e sono un consulente di marketing, quindi sostanzialmente aiuto i miei clienti a fare più soldi. Loro a volte ci riescono, io non sempre, però insomma è come il ciabattino che gira con le scarpe scalze, quindi fa parte del mestiere. Noi oggi parleremo di sostanzialmente perché qualcuno dovrebbe dargli un lavoro o diventare il vostro cliente se siete un freelance, un professionista, un piccolo microimprenditore. Perché? Spiega già una risposta pronta che gli ha funzionato. Stabilità tua. Personalità tua. La voglia di dare qualcosa che non c'è in modo diverso. Ma se non c'è come fanno a sapere che gli serve e quindi li pagano? Il problema è che il lavoro si trova, è evidente, e farsi pagare che è complicato. Perché ti devono dare un lavoro pagato? Non è scontato, perché diamo un valore in più. Questo è interessante. Bene. Abbiamo il problema però di definire questo valore. Anche. Diciamo che il personal branding è molto vicino a volgarmente sapersi vendere. C'è un problema. La scrittura è stata abolita, non ci possiamo vendere contro la legge. Quindi il problema è che dobbiamo imparare non a venderci, ma a promuoverci. Tra l'altro vendere è brutto, vendere è negativo, vendere qualcosa nel sentito comune che insomma non è proprio da raccontare. Mentre sapersi promuovere suona meglio, funziona meglio e in genere porta risultati. Quindi noi oggi cerchiamo di imparare a come ci possiamo promuovere per farvi conoscere. Ok? Bene. Per lavorare. E qua si apre un capitolo infinito. Perché volete lavorare? Cioè chi ve lo fa? Se la risposta è tengo famiglia, vorrei tenere famiglia, ho bisogno di una famiglia, è sbagliata. Giusta ma sbagliata per chi vi deve pagare. Ecco, già questo comincia a essere interessante. Quindi il concetto di sviluppare la propria indipendenza, sviluppare la propria autonomia, sviluppare se stesso. Questo è fantastico. Se uno riuscisse a lavorare per divertirsi sarebbe una grande cosa. Con certa fatica, ma io in genere mi diverto quando lavoro. A volte no, ma insomma la maggior parte dei casi sì. È stata dura, è stato faticoso, ci ho messo un sacco di tempo, per tanti anni non ci ho capito nulla, però poi alla fine ci sono arrivato per prove e tentativi. E quindi sì, si lavora anche per divertirsi. Anzi, diciamo che più lavori per divertirti, più il lavoro funziona. Più lavori con pesantezza e meno il lavoro funziona, quindi meno ti pagano e quindi meno funziona il tutto. Quindi tu non sei contento, il tuo datore di lavoro, il tuo cliente non è contento e quindi poi alla fine diventa un incubo, arriva a fine mese, che non arriva mai, tra l'altro, il fine mese che non arriva mai. Altra idea su come ci si promuove o perché ci si promuove o perché vi serve un lavoro? La realizzazione. Si lavora per realizzare se stessi come individui. Questo è un tema molto interessante. Se ci dobbiamo realizzare vuol dire che ci sono delle strade che possiamo percorrere e altre no. Quindi ci sono dei lavori più idonei a noi e dei lavori meno idonei. Alcuni lavori ti portano alla realizzazione e altri no. Qual è il lavoro che vi piacerebbe fare? Quello che vi permette di divertire. A questo punto è facile, no? Si trova questo lavoro? Si spera e quindi questo già è un vantaggio, cioè c'è la speranza, quindi no? No, tu dici di no, non si trova. Ecco, questo è interessante, cioè se uno cerca lavoro, chi cerca trova, si diceva una volta, ma non sempre è vero. Però se cerchi qualcosa che non c'è, perché molti sono convinti che non esista un lavoro che possa piacere e permetterti di realizzare. Se cerchi qualcosa che non c'è, sicuramente non lo trovi. Se lo cerchi non lo trovi. Se lo inventi o lo crei, ecco che si aprono noi, i mondi si aprono noi, i orizzonti. Allora, oggi è il momento, è un momento storico, un momento culturale, un momento economico, in cui se cerchi lavoro hai tantissimi problemi, se ti inventi il lavoro hai molto meno problemi. Funziona meglio, è più facile, paradossalmente, e hai più prospettive. Hai la possibilità di riuscire piano piano a divertirti e a realizzarti. Voi ieri avete fatto una giornata sui business model, quindi sostanzialmente su come, in qualche modo, capire quali sono i meccanismi, le variabili, le soluzioni che possono portare alla creazione di un'impresa che funziona, di un business che funziona, che soddisfa e porta risultati. Considerate che quel modello si applica perfettamente anche agli individui, quindi volendo si può sperimentare quel modello applicato a se stessi. Esiste una concettualizzazione già codificata codificata in un testo che è Brand Umodel, sempre della stessa scuola, quindi proprio lo stesso canvas, nove blocchi adattati però all'individuo. Il testo è disponibile solo in inglese, però c'è una community in inglese molto attiva di Tim Clark, che è uno dei collaboratori di Osterwald Pinier, che ha partecipato all'elaborazione del modello classico e poi dopo ha creato il suo, adattato all'individuo. Ma quello è un modello di business comunque, è un modello di carriera, è un modello per costruire e pianificare il tuo futuro. Allora, in realtà appunto dicevamo che se uno cerca lavoro ha difficoltà a trovarlo, se invece uno prova a inventarlo ha molte più possibilità. Ha molte più possibilità perché puoi disegnarti un lavoro in qualche modo calzato sulle tue esigenze, sulle tue capacità, sulle tue potenzialità. La maggior parte dei lavori che oggi funzionano, che oggi hanno richiesta, che oggi hanno mercato, cinque anni fa neanche esistevano. Noi fra l'altro in questo momento stiamo vivendo una rivoluzione culturale, epocale. Diciamo che dal punto di vista della comunicazione, quindi della promozione marketing, esistono tre grandi momenti nella storia dell'uomo, quattro forse va. Il primo, quando qualcuno ha codificato la scrittura. Siamo passati dalla tradizione orale alla scrittura, sotto forma di geroglifico, sotto forma di simbolo, sotto forma di schema, però sostanzialmente dal tramandarsi verbalmente e oralmente le informazioni è nato un sistema codificato, per cultura, per linguaggio, per zona, basato su dei simboli che permettevano la reterrazione di questo sapere. Poi siamo arrivati sostanzialmente dalla preistoria al medioevo, al 1400-1500, quando poi Gutenberg inventa i caratteri mobili e quindi la tipografia e quindi la possibilità di stampare i libri. I libri prima venivano scritti a mano. Quindi ci voleva un sacco di tempo, ovviamente i libri avranno una scarsa possibilità di diffondersi. Da Gutenberg in poi, chiaramente il mondo cambia e il sapere diventa più accessibile. Le persone ovviamente cominciano a studiare sui libri. E chiaramente pubblicare un libro è il segno di una capacità di conoscenza impressionante, tant'è vero che la maggior parte dei vostri docenti universitari ha scritto un libro, o perlomeno ha scritto una serie di pubblicazioni. Anzi, diventi docente, più pubblicazioni hai, più docente in qualche modo sei qualificato, no? Perché lo scrivere conoscenza e pubblicare la conoscenza è un titolo che ti qualifica come esperto, come studioso, come docente, no? Che è il massimo che c'è come sapere, no? Fantastico. Poi sì, nasce la televisione, fa delle cose interessanti, ma insomma sostanzialmente a livello dell'individuo non sposta più di tanto, se non il fatto che comincia a rendere il sapere più visivo. Il grande pregio della televisione è che ha reso il sapere divulgabile in modo diverso dal testo, lo ha reso più visivo. Questa visualizzazione del sapere è talmente interessante perché cambia anche il modo con cui si insegna. Ieri sostanzialmente avete visto un modello di business, quindi economia pura, giocata con visualizzazioni, mappe e cioppini colorati, post-it, no? Quindi è il potere della visualizzazione. Dalla televisione si passa sostanzialmente al fine secolo, quindi fine novecento, inizio duemila, quando da internet nascono i primi blog e poi pian piano arrivano al sistema dei social media, che sono una rivoluzione copernicana. Sono un sistema assolutamente innovativo e fenomenale che consente a ognuno di noi di diventare editore, a ognuno di di noi di creare, pubblicare, condividere, moltiplicare, commentare, criticare, smontare, rimontare informazioni e contenuti. E genera la possibilità a chiunque di noi, sostanzialmente senza conoscere o avere alcuna competenza specifica nella tecnologia, di poter diffondere una sua idea, una sua sistema di conoscenza, una sua strutturazione di pensiero in molteplici forme, molte anche visive, e quindi in qualche modo di accreditarsi nel tempo come esperto, accreditarsi nel tempo come saggio, accreditarsi nel tempo come persona che conosce. Questo ha un costo tendenzialmente zero, tanto tempo dedicare, tante idee, ok, però poi economicamente non costa tantissimo essere sui social, mentre andare in televisione è complicatissimo, farsi in una televisione è impossibile, ma anche andarci è complicatissimo. E questo chiaramente sta spostando gli equilibri, sta spostando il mondo, sta spostando l'attenzione sulla potenzialità che ognuno di noi ha di diventare in qualche modo esperto. Il mondo del lavoro è un mondo fatto di esperti, o presunti tali, in qualche ambito, in qualche settore, in qualche tipologia della specializzazione infinite possibile del mondo del lavoro. Più noi ci qualifichiamo come esperti, più noi siamo interessanti. Non solo, ma il web o i social ci danno due possibilità. Non solo quello di qualificarci come esperti, ma di acquisire anche la visibilità e di farci trovare. Questa è una rivoluzione europeanicana, nel senso che quanti di voi hanno un profilo Facebook? Chi non ce la facciamo prima? Beh, scelta libera, no? Il problema è, se io devo trovare lavoro, se io ho bisogno di trovare clienti, Facebook diventa un sistema interessante da seguire. Uno non ci deve stare per forza, però 22 milioni di italiani che fanno delle cose, molte discutibili, però insomma fanno delle cose lì sopra, è fantastico. Perché? Perché per chi si occupa di marketing, avere il nome e il cognome delle persone è sempre stata la massima ambizione. Voi fate la spesa al supermercato? C'avete carte buoni sconto? Carte di fedeltà? Comprate i bollini? Quelle che servono ad avere tutte le informazioni possibili su di voi. Quelle carte e tutte le informazioni abbinate ai vostri consumi hanno un valore incredibile. Hanno talmente valore che in genere, anche se poi dicono che non lo fanno, ma lo fanno, cedono i vostri dati, perché quei vostri dati valgono più di tutto il supermercato. Voi vedete che Facebook detiene una mole di informazioni private e personali impressionante. Allora, a prescindere dagli usi, speriamo e affidiamoci alla legalità delle informazioni che fa Facebook o chi la gestisce, dal nostro punto di vista significa proprio avere un bacino di persone interessanti o interessabili a noi, che fanno cose, che dicono cose e che fanno vedere passioni, hobby, interessi. Le persone entrano in relazione normalmente non per lavorare, entrano in relazione perché ci sono degli universi personali che si incontrano. Quindi chiaramente sapere che il mio potenziale datore di lavoro, a cui sto per inviare un curriculum, è magari padre di famiglia che magari è tifoso di una squadra piuttosto che appassionato di, mi dà magari qualche tema per un eventuale colloquio e quindi mi dà delle chance superiori. fino a qualche anno fa, chiamare un'azienda e farsi dire che era il responsabile della selezione piuttosto che il responsabile marketing, era tempo perso perché non ti davano un nome, non ti davano un indirizzo. Oggi vai su LinkedIn, chi ha il profilo LinkedIn? Quanti lo usano? Lo usano nel senso che ci vanno ad aggiornarlo? Cominciamo a stare bene. LinkedIn è uno strumento fondamentale, uno strumento di socializzazione professionale. Quindi in realtà oggi è molto più facile crearsi il proprio lavoro piuttosto che andarlo a trovare perché effettivamente l'offerta è ridotta. Tutto questo di cui stiamo parlando, quindi motivazione personale, autostima personale, fiducia in se stesso, esame delle proprie competenze, valorizzazione di quello che so fare, autopromozione, visibilità in rete ma anche fuori, come sviluppo conoscenza e consapevolezza, come uso i social network, tutti questi temi appartengono a un filone nuovo di studi che si chiama Personal Branding Marketing Personale, che è un sistema di conoscenze che si sta codificando in questi anni. In realtà il marketing personale esiste dal 1980, esiste dal 1900, marketing personale o self brand, quando due consulenti americani scrivono un libro che diventa un best seller del marketing mondiale, All Rise e Jack Trout, che si chiama Positioning, e sostanzialmente nel loro testo dicono che un'azienda o un prodotto può essere acquistato se riesce a entrare nella testa del suo potenziale cliente in modo unico, in modo differenziante. Se ci riesci, a quel punto hai una rendita di posizione rispetto alla tua concorrenza. Su questo fanno una serie di analisi, studi e esercizi per creare questa idea nella mente dei clienti o dei potenziali clienti e dedicano due capitoli del loro libro a come puoi posizionare la tua carriera sul mercato del lavoro e come puoi diventare un libero professionista, un freelancer, un microimprenditore di te stesso se vai sul mercato classico. Sono i primi che dedicano uno spazio a questo tema e quindi nasce il tema, che si chiama People Marketing e Personal Marketing. Poi, chiaramente negli anni 90 si sviluppa internet, cresce la rete. Nel 1997 Tom Peters, che è uno dei grandi guru del management mondiale, scrive un articolo chiamato Personal Branding, The Brand Called You, quindi un brand chiamato te, in cui sostanzialmente dice che con la situazione di internet, con la situazione del mercato americano di fine anni 90, ognuno di noi diventa imprenditore di se stesso, diventa un marchio che rappresenta se stesso e che in qualche modo deve sviluppare se vuole creare valore, se vuole entrare e realizzare i propri obiettivi professionali. Questa cosa che è molto carina, molto interessante, l'articolo è pieno di spunti, chiaramente rimane nell'ambito anglosassone finché sostanzialmente invece nascono i sistemi di social, quindi nasce YouTube, nasce Facebook, nasce pian piano Twitter e nella metà degli anni 2000 i consulenti americani, alcuni che vengono dal coaching, altri che vengono dalle vendite, sostanzialmente capiscono che questo tema applicato ai social network funziona incredibilmente, perché le persone sono in realtà un potenziale brand sono un potenziale marchio che se lavorano in un certo modo e progettano il proprio percorso di carriera in un certo modo hanno molte più possibilità di differenziarsi, essere visibili, costruire relazioni e quindi realizzare i propri obiettivi professionali. Avere successo per molti consulenti americani equivale alla capacità di realizzare i propri obiettivi. Avere successo non si misura in termini di cose che hai o in termini di visibilità o popolarità che hai sui media, avere successo è una misurazione assolutamente personale ed è riferita alla propria capacità di realizzare gli obiettivi che uno si prefigge. Quindi se io realizzo gli obiettivi che mi sono previsto sono una persona di successo. Se non mi realizzo gli obiettivi sto nell'insuccesso. prego dunque uno si chiama Aruba Aruba Poi tanto comunque vi do i link in giro a parte diciamo alle mie risorse online e là trovate l'Ira di Dio di Robinson. E un altro si chiama, ora mi sfugge il nome. Poi vi do tutti gli indirizzi comunque. Nel materiale che vi lascerò, poi noi qualche slide la vediamo ma insomma non tutte, ci sono due serie di slide. C'è un modello di piano personale, quindi come si fa un piano personale? Un modello con tutti i passi formulato a domande a cui devi trovare le risposte. Il modello ve lo presenterò poi invece nel pomeriggio concettualmente come funziona e poi c'è invece una guida passo passo a come si fa un curriculum visivo di cui parleremo poi nel pomeriggio. Ci siamo? Quindi questo è un po' il cappello. Chiaramente quindi marketing personale e personal branding sono usati come sinonimi. In realtà appunto nella mia visione ci sono delle differenze. Personal marketing, marketing personale è un po' tutto l'impianto, quindi diciamo che tutti possono fare marketing personale. Nel senso che è un impianto di metodo. Cerco di capire quali sono le mie qualità, cerco di capire quali sono le mie caratteristiche, cerco di capire come mi posso promuovere meglio. In alcuni casi stiamo facendo solo self marketing, quindi faccio solo promozione, marketing di se stessi e promozione. Dare un biglietto da visita a una persona che incontro è fare marketing di se stessi, quindi self marketing. Il personal branding riguarda invece più in profondità la reputazione che io ho. Si dice che il personal branding sia quello che dicono le persone di te quando non ci sei, o quando lasci una stanza. E chiaramente non è detto che se io lascio la stanza le persone parlano di me. Cioè nel senso che in molti casi sono assolutamente anonimo, sono assolutamente indifferente, sono assolutamente sconosciuto. Allora diciamo che essere un brand è una potenzialità che però se non viene coltivata e non viene valorizzata attraverso un progetto, una serie di azioni intenzionali rimane soltanto potenzialità. E questo lo vedete anche nei supermercati, esiste Barilla, esiste De Cecco, esistono tante paste, voglielo, esistono dei marchi che non avete mai sentito. Quindi anche il mondo dei beni è fatto di prodotti che si conoscono e di prodotti assolutamente anonimi. Allora è chiaro che quando è che un brand diventa conosciuto? Quando fa una serie di azioni per cui si fa conoscere. Allora la cosa fantastica è che per farsi conoscere, oggi il metodo migliore è fare un progetto e usare i social network. Quindi sostanzialmente tutte le attività che dipendono da noi, in cui serve soltanto un pochino di metodo e poi la pazienza di portarle avanti. Questo cambia la vita. Io praticamente nasco in azienda, in realtà nasco come venditore porta a porta, perché uscito dal liceo c'era voglia di fare due soldi e quindi all'epoca si trovava solo questo. Porta a porta che è terrificante, cioè in senso che da vergognarsi come ladri, però se riesci a trovare la chiave di lettura impari a relazionarti con persone strane. A me è capitato di tutto, è capitato anche di andare in una fattoria con il signore a cui dovevo parlare che mungiva la vacca e quindi ho bevuto il latte fresco, insomma che è una cosa, un'esperienza mistica. Questo però ha fatto sì che una persona comunque profondamente timida, chiusa e riservata aprisse al mondo. Poi faccio l'università ma senza molta passione e quindi l'abbandono, scopro però che il mondo del business, dell'economia, delle vendite è fantastico e quindi entro in azienda e comincio a fare il mio percorso. E via dicendo, però appunto poi mi manca la formazione, torno quindi a scuola, faccio dei corsi professionali e mi appassiono alla comunicazione e al marketing. All'epoca, anni Ottanta, andavano un po', però non erano codificati. Il marketing era un esame complementare di economia e commercio che te lo facevano fare proprio se ti mettevi in ginocchio e si chiamava tecnica della distribuzione commerciale a Roma. Una cosa da quattro adepti. Però appunto faccio delle scuole professionali, ho la fortuna di studiare, di imparare da manager di multinazionali che si divertivano perché alle università non li facevano insegnare e quindi invece nelle scuole professionali facevano un sacco di cose e cominciano a dire tutto che bello, che bello, che bello, quanto sei bravo, questa cosa ti piace che ti dicono che sei bravo, quindi pensi che sei bravo e dici ok ma che faccio, sto in azienda, mi apro una mia società. E lì è stato il dramma perché in realtà è complicatissimo, è stato improprio, è complicatissimo trovare lavoro, trovare clienti. All'altro appunto questa cosa, come decidi di farla, arrivata in Centopoli, crollo dell'economia, crollo di tutto, per cui svalutazione di Amato, cioè un dramma. Però a quel punto stai là, cerchi di capire che cosa fare e più o meno, in qualche modo vai avanti, senza lode, ma insomma, facendo proprio un sacco di belle esperienze, imparando a fare un sacco di cose, finché, taglio perché se no la storia è lunga, nel 2008 con tre siti internet, dopo una frequentazione online di 12-13 anni, perché sono stati i primi a usare internet proprio per le potenzialità di raccolta di informazione, scopro che se digito il mio nome online, io esco in terza pagina. Che, insomma, cioè, ho speso soldi, ho speso energie, ho speso ogni anno, insomma, qualche migliaio d'euro per l'ottimizzazione sui motori di ricerca. Perché? Perché c'è un mio omonimo, che fa un lavoro rispettabilissimo, è ispettore della protezione civile, responsabile dell'Etna. Della protezione civile dell'Etna. L'Etna è ruta un giorno sì, un giorno no, quello sta sempre sui giornali. Quindi, e chiaramente, c'erano tutti articoli dedicati a lui. Che si fa in questo caso? Ti dicono, ok, perfetto, apriti un blog. Blog, diario. Io il diario non l'ho mai usato manca a scuola. Non sapevo che farci. Però dico, ok, vabbè, vediamo che cosa... Cioè, vai a vedere cosa fanno gli altri blog dedicati al marketing. Vado a vedere gli autori italiani di marketing che scrivono dei blog, e dico, ma questi non sanno il marketing, questi parlano di altro. Un po' arrogante, un po' perché appunto effettivamente parlano di altro, perché parlavano del marketing online, che è un'altra cosa. Però poi vado a vedere gli americani e scopro che fanno delle cose bellissime. A questo punto apro il primo blog, ovviamente sbaglio il nome, sbaglio un sacco di cose, sbaglio l'indicizzazione sui motori, ogni tanto poi l'HTML esplodeva, saltava tutto, sono stati mesi infernali. E mi hanno detto, fai un post al giorno, che ti sembra facile. Poi, alla fine, comunque, chiaramente, nel frattempo già insegnavo da diversi anni, decido che lo uso come deposito delle mie lezioni, come deposito dei materiali che in genere utilizzavo in aula. Questa cosa, insomma, già mi tranquillizza, perché mi dà delle idee di contenuto. Nello stesso tempo mi permette di mettere a punto come devo impaginare un testo che però conosco, come devo mettere, e quindi faccio delle esperienze. A quel punto, insomma, era il 2008, la situazione sui motori di ricerca è un pochino migliore, con un blog, poi comincio a fare altre cosette, sbaglio registrazione su Facebook, mi dicono, vai su Facebook, mi registro su Facebook, all'epoca era ancora in inglese, sono registrato ancora, perché da Facebook non ti cancelli, a Rome, Alabama. Sono registrato in una Rome, Alabama, esiste un posto, e lì è partita la registrazione che mi ha piazzato a Roma, che sta in Alabama, Stati Uniti. Capisco che non è quello, e quindi sospendo, aspetto che viene la versione italiana, perché non si riusciva a cambiare, e ancora c'è l'iscrizione là. Quindi comincio a fare delle cose, nel 2010, febbraio, dico, ok, vediamo se ho capito come funziona questo mondo, e quindi apro un secondo blog, quindi ragiono sul nome, ragiono sulle role chiavi, faccio una ricerca su Google, faccio tutte le cose che andrebbero fatte in modo serio. E quindi decido di aprire un blog dedicato al marketing personale, che era una delle passioni, comunque, io ho poi il marketing personale, in realtà, quello che racconto a voi, in molti casi l'ho sperimentato già negli anni 90, facendo comunque il consulente in campagne elettorali, facendo un consulente per cinque anni per l'immagine di un sindaco, facendo comunque campagne di promozione per teatri, per artisti, per aspiranti attori, registi, sportivi, quindi qualcosa comunque poi ho fatto proprio come, e quindi era una passione, ok. Apro questo blog dedicato al marketing personale, perché appunto Personal Branding, comunque, era occupato, come domini italiano, da due ragazzi, fra l'altro bravissimi, che hanno scritto anche l'unico libro attualmente disponibile, sul Personal Branding, e quindi cerco di mettere in pratica quello che, se ho capito, vediamo come funziona, e quindi comincio a condividere contenuti originali, nel senso proprio modelli unici, comincio a chiedere consigli, comincio a chiedere pareri, comincio a chiedere commenti, feedback, faccio una serie di interviste, la cosa fantastica è che in rete potete intervistare chi vi pare, e vi rispondono, cioè tendentemente vi rispondono, io ho intervistato 25 manager e consulenti, uno non mi ha risposto, due mi hanno detto sì, te la mando, ma ora c'è da fare, vediamo dopo, due mi hanno detto te la mando, non me l'hanno mandata, e 20 mi hanno risposto. Quindi ho pubblicato 20 interviste, nel tempo ovviamente, nel giro di qualche mese. Interviste dove chiaramente io ho intervisto Mario Rossi, Mario Rossi è fantasticamente contento della mia intervista, perché non è che a noi ci intervistano, a noi chi ci si fila, come consulenti, come formatori, chi è che ti si fila. Quindi chiaramente fa sapere a tutti i suoi amici, a tutti i suoi colleghi, che lui ha avuto l'intervista pubblicata sul mio blog. Moltiplico per 20 volte, hai una maria di citazioni, il mio Google personale esplode. E a questo punto, chiaramente il tema esplode, a lui, io mi chiamo a Luis, e a fare una compartecipazione, a un convegno sulle nuove tendenze della rete, nuovi mestieri, nuove professioni, nuovi approcci. Fa molta scena, in realtà è stato un convegno indecoroso, nel senso che, tre quarti d'ora di lettore, un quarto d'ora di magnifico, a noi ci hanno dato poi alla fine dieci minuti, tagliati a tre, che toglievano il microfono, però, gli altri non lo hanno, tu hai comunque il tuo curriculum, relatore al convegno Luis, ci sembra che sai che hai fatto, quindi che ne sanno come andare. A quel punto, chiaramente tu questa cosa, la impari che va venduta, non la devi raccontare, la scrivi, anzi, ci ho fatto un post, sono stato, che bello, senza, esagerare, la regione Lazio, con cui già collaboravo da anni, mi chiama a settembre, dice, ho visto che hai fatto sta cosa, ci inventiamo un ciclo di seminari, sul marketing personale, personal branding, e dal settembre 2010, faccio solo questo, praticamente. Questo è, quello che io racconto, è che l'ho sperimentato realmente, oggi, l'ispettore della protezione civile, è in terza pagina, lui, per fortuna, nel senso, vuol dire che l'Etna, sta abbastanza tranquillo, perché, no? Quindi, questo è un bene anche per tutti i siciliani, che stanno lì sotto, però, è che il mondo, effettivamente, cambia, quando, riesce a capire, quali sono le logiche, che lo governano. Quindi, è chiaro che, da un certo punto di vista, oggi, la rete ti offre delle opportunità incredibili. Io sono qui, perché, con alcuni dei colleghi presenti qui, abbiamo, ci siamo conosciuti in rete, condividendo informazioni e spunti. Quindi, sono qui, perché mi hanno trovato in rete, perché in rete, io condivido un sacco di cose, che gli altri reputano interessanti. Cose mie, cose degli altri, tra l'altro, per cui, insomma, da questo punto di vista, e funziona. Cioè, che la maggior parte del mio lavoro, lo trovo ormai, con LinkedIn e Twitter. E, ho speso, negli anni, veramente, per fare le brochure, per fare i pieghevoli, spedisci le lettere, scrivi. Oggi non c'è più bisogno di tutto questo. Ma non è che non c'è più bisogno, perché sono diventato famoso. Non c'è più bisogno, perché questi strumenti, consentono, di poterti far conoscere, con i parametri, che tu decidi, che vuoi, utilizzare. Mi spiego? Appoggio qui il primo blocco, poi entriamo. Domande, dubbi, angosce, riflessioni, considerazioni, tutto, tutto, chiaro. Funziona? Come si parte? Anche, certo, questo è evidente, però appunto il problema è, significa che ho la chiave, significa che ho una serratura e che sto da qualche parte. Qual è la vostra chiave, qual è la serratura e dove sto? Esatto. Il primo punto di partenza è, capire chi siete, che è, fantastico, cioè stai tutta la vita e non esci vivo, questo è. Allora, il problema appunto è, capire chi sei, fermo restando che non ti basta forse questa esistenza per poterlo definire, a un certo punto devi mettere un punto, perché se no non esci vivo. Quindi, chi sei, significa semplicemente cominciare a pensare in modo diverso rispetto a come hai pensato fino ad oggi. E questo arrivi dopo che hai definito chi sei. C'è un percorso. Allora, se uno vi chiede chi siete, no? Tu cominciate a dire 10 qualità indiscorse vostre. Cominciate a scriverle. 10, 10. 10. 10 qualità vostre. Qualità personale, beh, certo. Se conosci lei, scrivi le sue, però, insomma. 10 qualità vostre. perché 10? Perché 10? Perché 10? Perché 11 sono troppo. Perché 1, 2, 3 è facile. Per qualcuno è difficilissimo, però 1, 2, 3 tendenzialmente è facile. Alla quarta o alla cinque cominci a sudare. Quello che ti pare. Allora, chiaramente, inserito in questi temi ci starebbe bene un paio d'ore di linguistica, perché ognuno di noi attribuisce alle parole significati suoi. Suoi. Correttissimi. Ma suoi. io siccome diciamo tendenzialmente misuro le parole, ho detto qualità indiscusse vostre. Quindi non c'è da discutere che cos'è una qualità. È quello che voi percepite come qualità. Non ci mettiamo a fare, no? Quindi dicevo 10 è uno sforzo notevole. In qualche caso mi è capitato qualcuno che ovviamente aveva una grandissima autostima che 10 me l'ha fatti da per là. 20. Cioè poi mai che ti devi sforzare? direttore sul cellulare che li fai tu? Ah, pensavo, no, perché dico, dico, mazza dico, bravissima. che ti devi sforzare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visto che avete già fatto dieci, metteteli in graduatoria. Qual è il primo, qual è il secondo, qual è il terzo, qual è il quarto, da uno a dieci. Non so se li avete già scritti in graduatoria, non credo. Qual è per voi quello proprio più gagliardo, il secondo gagliardo, il terzo gagliardo, il decimo un po' meno gagliardo. Gli date una classifica. Come è più difficile? Beh, certo. Non lo so, chiaramente per alcuna è più difficile, per alcuna è più facile, non lo so. Quindi, avete dei problemi a condividerli su Facebook le vostre qualità? Interessante, interessante. Ok? Chi vuole cominciare a leggere... Facciamo solo le prime tre, dai, così posso sentirli tutti, più o meno. Chi vuole, non c'è nessun obbligo. No? Prendo i nomi, poi dopo, va bene. Metterò il commento sulla vostra baghega Facebook, non ha voluto condividere. Abbiamo un microfono, se ve lo prendete, chi vuole cominciare a leggere le sue prime tre qualità. Un, due, tre, quindi, eh? La prima, la seconda, la prima e tre. Dai. Trasparente. Sincera. E' acceso, acceso, acceso. Solo che se parla così, chiaramente, è complicato. Trasparente, sincera e tenace. Fai il mare di lavoro? Il mare fai di lavoro? Il mare? Il mare trasparente è una qualità fantastica. Cioè, c'è gente che fa cazzotti per andare a trovare il mare trasparente. Una persona trasparente... No, bellissima. Per fare che? Trasparente è una di quelle qualità soggetta a interpretazione. Soggetta a difetto. No, a interpretazione, non difetto. Trasparente è anche colui che, appunto, no? Se il personal branding è quello che dicono di te, quando non ci sei, se sei trasparente, non ne parlano proprio. Mi spiego? No? Non lo so, è evidente. Io poi gioco, no? La tenacia mi piace tantissimo, perché non è la tigna, ma è il fatto di combattere per realizzare i propri obiettivi, ed è una delle componenti fondamentali del successo. Se il successo è la capacità di realizzare i propri obiettivi, la tenacia è una qualità bellissima. La seconda era, invece, la sincerità. Anche questa si presta a misunderstanding, per cui, vabbè, no? Bellissima nelle relazioni personali. Vaglia a dire al tuo capo che è un cretino. Dice, ma è così? Diglielo. Non so, non so, ok? Va bene, poi dopo ci lavoriamo, non è finita, però intanto è, tanto, vai. Determinata, propositiva e affidabile. Determinata, ok. Una persona che è determinata, è determinata, è un caterpillar, non guarda in faccia a nessuno, passa sul cadavere di chiunque. No? Eh? Più o meno, vedi? Questa è l'accezione comune. Se piace, cioè, ripeto, è personale, non... Funziona. La seconda? C'hai detto? Propositiva? Tendenzialmente sì, in azienda mi mette un po' d'ansia. Una persona propositiva è una che mi sta sempre a dire, devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. No? La terza? Affidabile? Se sta in banca, sì. Se fai il ragioniere, sì. Se fai il creativo, no. Il creativo affidabile e la negazione del creativo dipende da che cosa devi fare. Allora, questo è per dire, adesso, mo' andiamo avanti, eh? Ma intanto, le tue tre qualità, se tu ne scrivi tre e c'hai solo quelle tre, capisci da te che già il tuo mondo di lavoro sta andando in una direzione. Dice, ma io voglio fare l'astronauta, forse con quelli va bene, voglio fare la stilista, beh no, forse no, c'è qualcosa che non funziona. Mi spiego? Per questo ce ne avete dieci? Perché se poi invece quello che ti piace fare non rientra bene con quei tre, cioè non faccio il mare, allora, no, recupero uno degli altri sette, oppure lì vi scrivo. Mi spiego? Allora, quello che io intendo per conoscere te stesso non vuol dire che ti metti là e ti fai l'analisi socio-psicopatologica di quello che sei. Fai delle scelte, fai delle scelte che devono essere in qualche modo rispecchiano te, ma che non sono tutto te, perché è impossibile. No, quello che conta è costruire un percorso di coerenza. Ok? Grazie. Vai. Hai corretto qualcosa? Hai corretto qualcosa? Ah, bene. Vai. Determinata. Solare. Sì. Bene. Perché molte persone sono lunatiche e allora pensano che il solare è una qualità. Mentre anche essere lunatici è una qualità. La luna governa le maree, quindi ha una sua valutazione positiva. Sì. Sì. Può andare. Questo gioco, adesso io chiaramente stresso un attimo i concetti. Siccome poi appunto nel pomeriggio dobbiamo cominciare a ragionare sull'immagine che mi rappresenta visivamente, io sono un'immagine, un simbolo. Il solare lei è agevolata, no? Cioè becca qualunque alba o tramonto e va fregato a tutti, no? Trasparente, non lo so, perché è giusto al mare che vuoi fare perché sennò non si vede. Ci siamo? Allora, ok, va bene. Chiaro che questo è un primo passo, poi per. Comunque no. Il determinato va sempre bene, funziona sempre, il problema è che ormai l'hanno scoperto un po' in troppi. Quindi tutti questi determinati, no? O lo sei veramente e sei riconosciuto come tale, perché una cosa carina che potreste fare è chiedere ai vostri due, tre, quattro, cinque migliori amici, poi scoprite magari che non lo sono, quali sono secondo loro le vostre dieci qualità e matchate. si scoprono delle cose fantastiche. Se dovete fare delle scelte a quel punto, avete fatto anche una piccola ricerca di mercato. Due, nel dubbio hanno ragione i vostri amici. Sicuro. Perché quello che conta non è quello che tu percepisci, ma come ti percepiscono gli altri. Abbiamo detto che il personal branding è quello che dicono di te gli altri. Su quello puoi lavorare poi, chiaramente. Hai passato il microfono? Vai. Vedi? Sì, perché va tanto, ci sono delle cose... No, ci sono... Ripeto, molte persone lo sanno realmente, no? Anche perché, chiaramente, è una qualità che poi in questi momenti deve emergere in qualche modo, perché di fronte a una situazione un po' difficile... Esatto. E quindi, chiaramente, esce fuori la determinazione. Quindi, la seconda scusa? Collaborativa e dinamica. Oh, vedi, fantastico. Collaborativa e bellissimo, ma non mi dire che vuoi fare il freelance. No? Vi spiego? Cioè, una persona che... Io sono un freelance e collaboro con un sacco di gente. Però è evidente che in me c'è un forte senso di individualismo, di ego, centrismo. È evidente, no? Quindi, sì, collaboro, ok. Io non lo metto come prima mia qualità o come migliore qualità. Condivido molto, questo sì. È una cosa un po' diversa. Vi spiego? La terza, scusa? Dinamica. Bellissimo. E quindi, praticamente, ci vogliono i chiodi per tenerte ferma. Ok. Il dinamismo è sempre, comunque, una qualità interessante. Il problema che vi potreste porre, perché se lo risolvete è fantastico, è come faccio vedere ciò. Come faccio vedere che sto a dinamica? Mi metto su YouTube un bel video in cui corro dalla mattina alla sera. Fantastico. Non è quella l'idea di dinamismo mio? Perfetto, allora. Qual è l'idea tua di dinamismo? Come lo posso far vedere? Come lo posso far vedere in uno scatto? In un'immagine tua. Qualunque di queste qualità prendete. Ok? Grazie. Io ho scritto pratica, paziente e svelta. Se una persona pratica, e questo comunque c'è, in un mondo di teorici, aiuta. Anche se poi, appunto, c'è il rischio che la pratica è pratica. Quindi, però sì, no. Comunque è una bella qualità. Poi? Paziente. Il paziente face il paziente. Sì. Che è l'opposto di denace? No. No. E svelta. Svelta in generale. Non fare le cose. Svelta è bellissimo. Svelta io trovo una cosa fantastica. Che è, tutti determinati, pochi sono svelti. Perché svelto, no? Un po' significa che so furbetto, un po' significa che so prescioloso, un po' significa che non do attenzione. Invece una persona svelta è bellissima. No? Chiaramente svelto non può essere in assoluto. Carina sarebbe riuscire a farlo vedere. Come se puoi essere svelta. Interessante, però. Bellissimo come concetto. La sveltezza individuale è un concetto bellissimo. Grazie. Io ho scritto pratica, chiara e ironica. Pratica, ok, va bene. C'è lì accanto la pratica per qui. Poi chiara. Chiara, chiara. Chiarezza, chiara, chiarezza. Un'altra qualità bellissima. Penso che si presta a tantissimi aspetti. Chiaro che se fai il comunicatore è fantastico. Se fai il mediatore è fantastico. In alcuni ambiti è un valore aggiunto. Farla vedere la chiarezza sarebbe meraviglioso. E il terzo? Ironica. Ironica. E questa è. Solo i grandi sono ironici. Tendenzialmente perché ovviamente hanno l'ironia. L'ironia è la capacità di leggere le situazioni e trovarci un lato comico, un lato divertente. Ovviamente gli ironici non sono mai ironici sul lato comico della vita ma sul lato drammatico. Quindi è un valore aggiunto. Grazie. Non so poi se chiaramente se vai a Zelig o vai a... Quello è fantastico. Allora si sposa. Altrimenti non lo so. Però, bene. Allora, io ho scritto emotiva, combattente e cordiale. Fantastico. L'emotività sembra una cosa terribile perché dice ok, sono in balia delle onde. Vero. Però è anche una qualità in alcuni ambiti molto pregiata. L'emotività vuol dire stare e ovviamente a meno che non sia proprio psicopatologica e vuol dire stare nel presente, stare in azione, e stare nel momento che vivi. Quindi è... No. Bene. Scusami la... Un'emotiva combattente mi piace. È bellissimo. Un'emotiva combattente è bellissimo. Non so com'è venuto ma è bellissimo. Ci lavorerei un po'. Fallo vedere. Riesci a farlo vedere? Dieci modi per far vedere quanto sei combattiva... quanto sei emotiva combattente. Dieci modi. Così ne trovi uno che è fantastico. Se ti viene trovi lavoro subito, sicuro. Grazie. Io ho scritto flessibilità, creatività, finanziata proprio, e perseveranza, che è un po' come determinazione. Allora, creatività è un po' come qualità. Qualità non costa niente dirlo e va bene. Il problema è la qualità ha degli attributi. Qualunque prodotto, qualunque servizio, qualunque situazione di qualità ha degli attributi. Noi prendiamo gli attributi. Qual è una consulenza medica di qualità? Quella che te guarisce. Quella che non te guarisce non è di qualità. Qual è una pasta di qualità? Quella che non si scuoce, quella che tiene la cottura, quella che è presente che trafila il bronzo, non lo so. La qualità ha dei parametri. La creatività, invece, è più facile. La devi far vedere. Sei creativa in cosa? Perché la creatività è un concetto molto ampio. Se riesci a far vedere in che cosa sei creativa, è fatta. Può essere nel leggo, può essere nel disegnare, può essere nel comporre, può essere nel mettere insieme cose. Cioè la creatività è un concetto. La flessibilità, anche, è interessante se la utilizzi, per esempio, nelle relazioni con gli altri. Essere flessibili è fantastico. Quello che mi permette è farvi percepire il fatto che qualunque qualità di per sé va benissimo, è fantastica. Quando ne metto tre, già devo trovare un equilibrio fra le tre. Chiaramente, se le devo utilizzare per sviluppare un percorso di lavoro, un percorso di carriera, si devono anche, in qualche modo, mi identificano anche come area poi dove vado. Mi riesco a spiegare? Un ragioniere flessibile mi mette ansia. Ok? Ok. Bene? Allora, io ho scritto energica, avventurosa ed espressiva. Energicamente avventurosa? Cameltofi? No, nel senso energica è in senso di instancabile, proprio. Cioè, ci sono giornate, posso dormire anche tre ore. Duracell, quindi? Duracell, dura di più. Sì, sì. E qui già hai trovato il modo per farla vedere. Ecco, sì. Poi avventurosa. Eh? Mi ci butto proprio a capofitto nelle avventure. È diverso. Sì, però, sì, ok, va bene. E poi espressiva. Espressiva? Sì, nel senso che, comunque, bene o male, riesco a esprimere quello che mi sta per passare dalla testa. Sì. Ok. A meno che non ti metti a fare fiction, a meno che non ti metti a fare un lavoro più creativo, l'avventuroso lo modificherei in qualche modo, nel senso... Ah, vabbè, certo. Allora, se fai il Cameltofi, certo, va bene. Certo, certo, certo. Allora, è chiaro, se sei tu la prima che sperimenti, quindi figurati, no? Certo. No, guarda, dice, non ti buttare da 3.000 metri perché è stupido, vai a 5.000. È più divertente. Allora sì. Allora sì, certo. Ok. Va bene. No, l'energia invece è interessante la far vedere. È un concetto bellissimo la far vedere. Io non metto in dubbio che sia vero. cioè, lo dite voi, quindi è vero per definizione. Eh, punto. Vai. Scusate la voce. Serietà, versatilità e umiltà. Serietà, una persona seria che non vede mai. Poco? Meno? Spesso? No, no, serietà di impegno. Però forse la serietà di impegno, vedi che l'italiano è fantastico. La serietà nell'impegno forse esiste un'altra qualità per raccontarla. non c'ho... Scegli tu, vedi tu. Affidabilità. Eh, perché la serietà capito c'è... Sono quelle cose un po' da... da nonna. Una persona seria, nonna... la nonna in genere seria, no? Perché... Perché nessuno la fa ridere la nonna, perché se no la nonna sarebbe una burlona. Però, no? Ok? Quindi la serietà non mi fa impazzire. Poi è chiaro che se concordi per diventare, per entrare in banca, la serietà è la prima cosa. No? Quindi... Però, insomma, la seconda, scusa... Versaltilità. Eh, appunto, un serio versatile, insomma, c'è uno che è serio su tutti gli aspetti, cioè proprio, ti è stata alza un po' sui piedi, no? La serietà è bellissima, si tratta di capire dove la puoi o come la puoi rappresentare. Ad esempio, la serietà è bellissima da rappresentare. Puoi veramente immaginarti dieci scatti e fare un calendario. Fatevi il calendario. Bisogna essere per forza modella per fare il calendario, no? Attenzione, io ho parlato di scatola, non ho detto che ci siete voi, eh? Se ritieni opportuno esserci, bene. Se no, no. Io ho chiesto uno scatto, non ho chiesto una tua foto. Ho detto un scatto. Poi, se ti senti di stare in foto, stai in foto. E chiaramente questa è una questione soggettiva, no? Cioè, chi si sente che viene bene e chi si sente che viene male. La foto ve la dovete fare per forza perché comunque su LinkedIn serve foto del cliente, ne parliamo. Però alcune, basta. Il calendario, potreste fare un calendario di foto, di scatti che vi rappresentano. chi ce l'ha un calendario che cerca lavoro? Quale libero professionista ha un suo calendario? Il primo che lo fa, il primo che lo fa, eh? Ah, sei la pazza. Eh, tu capisci la te, che se tu ti inventi un calendario tuo, tu esci sui giornali. esatto, però, un giovane o un aspirante professionista, o uno che si è lavorato da poco, o uno che comunque sta curando il suo personal brand e si fa un calendario. Io ancora non ne conosco nessuno, gli americani pure che osano, c'è l'Edecaga che ci fa il calendario, ma l'Edecaga, non devi fare un calendario poster sette per otto da appendere nella galleria, devi fare un calendario da tavolo, tanto per, ma è l'idea, no? Biglietto da visita ce l'avete almeno, spero, no? Biglietto da visita? C'avete tutti un biglietto da visita? E allora, di che stanno a parlare? La prima cosa che devi fare quando cerchi lavoro è avere il biglietto da visita. Cioè, la prima cosa che devi fare quando cerchi lavoro è dare l'impressione che non hai bisogno di lavoro, perché se no è finita. Devi dare l'impressione che tu il lavoro già ce l'hai. Sto dicendo, questo è fondamentale, se tengo famiglia e c'ho bisogno, cioè, dagli pure l'ascia e dice, guarda, taglia qua perché, no? Vengo meglio di profilo. Sto dicendo, non è. Biglietto da visita è fondamentale, oggi online, fra l'altro, ve lo fate gratis, cioè, ve lo regalano, ve lo mandano pure a casa. Il problema è che ci scrivo. Beh, alcune cose già le sapete, nome e cognome, dato. Numero di telefono possibilmente vostro, non che risponde nonna che dice, chi è? Non sento, di, ripeta, una mail vostra professionale, che non è dududutralalachi ola libero.it ma è nome e cognome chiocciola gmail.com quello è una mail professionale, oggi gmail si porta, quindi se non vi fate, a meno che non avete già un account decente, nome e cognome, non ci devono essere soprannomi, non ci devono essere pezzeggiativi, non ci devono essere giochi, perché stiamo nel mondo del lavoro. Biglietto a visita è fondamentale, sotto ci mette due o tre parole chiavi, ci ragioniamo dopo, le parole chiavi vostre, ognuno ha le sue, dopodiché un cellulare ce l'avete, una mail professionale e possibilmente il link al profilo LinkedIn, se proprio non c'avete niente. Ci siamo? Profilo LinkedIn con un indirizzo che è it www . slash slash it . linkedin slash com nome e cognome, basta, non 8742 scala B interno C, chiamare dopo i pasti, cioè no. Personalizzate lo username. In Twitter o Skype? Se c'hai Skype, vedi? Pezza quanta roba c'avete, c'hai Skype, se c'hai Skype metti Skype, se c'hai Twitter metti Twitter, se c'hai altre cose di cui parleremo tra poco ci metti anche quelle. Cioè dai un biglietto a visita e fa paura, ti dice questo, chi è? Diciamo quanto mi costa? Fantastico, questo è. C'è anche il QR code. Allora me ne vado, se già lo sapete me ne vado. Certo, se metti anche il QR code fa paura. Anche perché fai giocare alle persone. Ci siamo? Ecco che serve il biglietto a visita. Il biglietto a visita serve a dire ragazzi qui non stiamo improvvisando, non stiamo inventando. So di che cosa si sta parlando. Un attimo che per tirare c'era non sento assolutamente più nulla perché poi con queste cose qua c'ho il vidro in scuffia. Prendi il microfono dai così. E' preferibile mettere il profilo LinkedIn piuttosto che mettere il profilo Facebook? No, no, Facebook non se ne parla neanche. Se avete una pagina business, sì. Ma se avete il profilo Facebook normale, no. Assolutamente no. A meno che non hai un profilo spettacolare. Ma se c'è lei vuol dire che c'è LinkedIn, fatto bene, metti LinkedIn. Sempre LinkedIn. Facebook, la percezione poi è loro vanno a controllare Facebook per vedere che cosa fai ma non funziona. Quindi il biglietto di visita è fondamentale. Io non li vendo quindi non ho problemi. Ma il biglietto di visita anche perché poi chiaramente se trovate esercizio del pomeriggio un simbolino che vi rispecchia ci mettete quello perché insomma il biglietto di visita con uno sghiricoro no? Un puffo una cosa seria chiaramente di di no parole sotto sotto tre parole chiavi promotore turistico promotore di eventi turistici sono tre parole chiavi ci siamo? Allora andiamo riprendiamo poi torniamo vai sogna edirizia convincente spirito organizzativo sei una persona convincente quindi venditrice nata proprio cioè te mandano subito dici una cosa del genere e te mandano subito che i folletto in giro no? il salento cioè questa li vende a chiunque è convincente che bella è una bella dote ma forse va mixata la seconda scusa perché io poi mi fisso subito sognatrice sognatrice nel mondo dell'arte è una grandissima qualità nel mondo della cultura nel mondo diciamo della creatività può essere una grandissima qualità se lavori con quelli che fanno materassi per esempio anche insomma gli fai da collaudatrice sì allora lì diventa interessante fare un calendario dei tuoi dodici sogni se ti viene hai sbancato diventi popolare ok poi spirito organizzativo però presuppone che lavori con gli altri ci siamo non c'è non c'è un bene un male dodici sogni è fantastico vada lavoraci fai dodici cartoline sui tuoi sogni fai una serie la film e le vendici campi pure di rendita ci fai le magliette che ne so diplomazia empatia ottimismo perfetto tu vai subito all'ambasciata è la tua ti rispecchia con il lavoro che fai? il lavoro non lavori però vorresti farlo non lo so ci sono persone che non lavorano in maniera consapevole perché non ne hanno necessità non hanno voglia hanno altre possibilità ma ha una voglia vedi guarda un po' ma ok la diplomazia per esempio è una cosa bellissima ma presuppone almeno due parti quindi è interessante perché invece ti apre l'orizzonte a tantissime possibilità di mestieri se è una qualità che senti che è riconosciuta anche dai tuoi migliori amici per esempio sarebbe interessante fare una verifica perché è una qualità che deve essere riconosciuta questa se no non te la fanno fare infatti non lo metto in dubbio però se anche i tuoi amici lo riconoscono allora funziona bene prego affidabile ottimista coerente quindi l'affidabilità ok anche se poi esiste il principio di Peter che dice sostanzialmente che ognuno di noi raggiunge il livello per cui diventa inaffidabile man mano che sei affidabile ti danno compiti più complicati arrivi al punto in cui non sei più in grado di farli no? chiaro l'intelligente si ferma no? però tendenzialmente in azienda c'è questo rischio però è una cosa bella sarebbe carino tre racconti di tue esperienze di affidabilità perché l'affidabilità si racconta difficile farla vedere invece la puoi raccontare tre sketch tre episodi ma anche da quando eri in fasce tre cose dice sai ho trovato il ciuccio al nido del vicino io l'ho ridato io l'ho rimesso in bocca questo è bellissimo ok? come esercizio di sviluppo il terzo era la coerenza scusa? coerenza è una delle cose più sottovalutate secondo me invece è una bellissima dote ovviamente se non diventa poi coerciutaggine ma insomma è una bellissima qualità grazie visionario hai fatto la lezione di ieri però come? hai fatto la lezione di ieri? sì sono diventato e beh forza la di ieri è quella è sensibile alla bellezza esteta volendolo esprimere con una sola parola un'altra che forse non c'entra molto però diplomatico un visionario esteta diplomatico fantastico se lo riesci a far vedere secondo me sbanchi ci proviamo bello però è un tris bellissimo tu potrei pensare che stamattina veniva a fare un corso e avresti incontrato un visionario esteta diplomatico chissà chi c'è è un'esperienza così mistica incontrare una persona del genere bellissimo vi rendete conto che cosa esce fuori semplicemente con una domanda banale banale che cosa significa conoscere se stessi ci sono degli orizzonti che noi non abbiamo mai neanche immaginato di esplorare figuriamoci qualcuno che si dovrebbe in qualche modo rivolgere a noi e darci qualcosa da fare e in più anche pure pagarci per quello che facciamo però questo significa veramente che ognuno di noi ha delle potenzialità infinite di raccontarsi e di raccontarsi in modo brillante in modo intelligente in modo curioso cioè da attirare l'attenzione in modo stimolante in modo da veramente creare una relazione che è molto più umana che è molto più professionale nel senso di molto più facile no la relazione è professionale non perché ti do la mano all'altezza all'angolo retto perché stringo il giù la relazione è professionale perché due persone si misurano su un piano no di uguaglianza di stimolo reciproco di rispetto reciproco no grazie chi c'è? vado allora la la primo chi sei è sono un esperto in area nell'area delle funzioni di corporate e nell'area di amministrazione finanza e controllo roba forte quindi sì ti dobbiamo dire come la dimostro o vado avanti no 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 c'è la dimostrazione no no ma erano le qualità tue in realtà qui mi stai dicendo che cosa fai in realtà non chi sei sono un esperto le tue tre qualità e sono un esperto? uno è solo un esperto due? ritengo di essere un esperto la seconda è capacità di leadership sono un leader oh vedi vedi questo mi piace questo mi piace declinato poi la declinazione è efficace efficiente emozionale efficace efficiente ed emozionale le tue tre le tue tre sì tre al cubo fantastico un e al cubo l'hai mai scritta una cosa del genere? la sto scrivendo sto preparando un corso lo vedi? e la terza è value creator un creatore di valore quindi questa attenzione verso il cliente che poi ovviamente si declina in no pippe sta più avanti però bellissimo sì mi piace tantissimo questa della leadership perché la self leader o il self leadership o l'essere leader di se stessi è una delle qualità più sottovalutate che esiste uno pensa che è leader soltanto se hai dei seguaci non c'è nessuno quindi no in realtà è essere un sì ma se non sei leader di te stesso non puoi essere leader di nessun altro nel senso che la self leadership è la premessa la self leadership significa essere consapevole per esempio delle proprie capacità essere fiducioso nella propria capacità di gestire quello che succede significa anche riconoscere che se c'è un deficit bene se mi interessa lo colmo se no no non so l'arbo fichissimo devo andare a vivere dieci anni a Riyadh forse lo imparo non ho intenzione di frequentare il mondo arabo chi se ne frega faccio altro ci siamo questo è una capacità adulta che però significa anche quella di definire degli obiettivi raggiungibili quindi essere self leader è bellissimo cioè è una delle qualità che si tende a sottovalutare se proprio dovete fare un corso su voi stessi sull'autostima sceglietevi un bellissimo corso di self leadership lo faccio io allora allora perfetto quello che sto organizzando io mai visto quindi non so anche self marketing ok quindi questo è però insomma la leadership è bellissima che altro c'è che vuole se non vuole noi tanto fra appena finito qua adesso questa prima parte di sessione ci andiamo a prendere un caffè e poi andiamo avanti con il resto altri sì sì no beh no per che altro perché loro registrano lo streaming quindi chiaramente va in diretta nazionale e quindi esce proprio esce proprio sul profilo esce sul profilo facebook di tutti i tuoi amici automaticamente allora visionaria lo sta correggendo lo sta correggendo in diretta visionaria nel senso che se non hai hai le visioni hai le visioni allora dico le capacità fantasia trasformismo autoironia per un artista è fantastica una cosa infatti sono disoccupata per questo perché mi piacerebbe fare l'artista anche non so ancora di cose però questo è un dettaglio questo è un dettaglio però per fare l'artista è fantastico allora il problema è non sai di cosa che cos'è che vi viene bene eh allora tanto il compitino per il pomeriggio cominciate a pensare che cos'è che vi viene bene senza sforzo perché dice a me vengono bene i ritratti però c'è lo sta due anni no perché in due anni un ritratto o fai la monnalisa e la devi fare proprio bene 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 che si può vendere come copia rubata e quindi o se no no ci siamo? cominciate a pensarci altri che vogliono vai un creativo anticonformista diciamo che è il cacio sui maccheroni perfetto l'anticonformismo però è diventata negli anni una bandiera ognuno di noi o tu puoi essere anticonformista su alcuni ambiti che per te sono vitali se li riesci a far vedere è fantastico perché è un valore ma per molti non lo è però se tu hai il tuo modo di essere anticonformista su alcuni aspetti che tu eri più interessanti per te e che si sposano con il tipo di lavoro che vorresti o che fai o che vorresti fare ecco che questo valore questa qualità diventa veramente un valore e quindi devi fare il freelance va bene ma vuoi fare il freelance o vuoi dice no io voglio lavorare con la regione contratto a vita è qualcosa di più indipendente o qualcosa di più o no ma adesso non so se il freelance è tanto cioè è sostanzialmente tradotto in termini fiscali la partita era gli americani sono più nobili freelance cioè lavoro improprio lavoro per conto mio lavoro senza nessuno però in realtà non so azienda quindi non faccio una società persone o capitali ditta individuale si chiama da codice civile faccio la ditta individuale così poi potete chiamare e dire la ditta non può permettersi ed è la ditta non sei tu ok però il fatto di essere indipendente è di per sé non è chiaramente né buono né cattivo è una erigenza dell'anima in molti casi quindi chiaramente devi seguire nel senso che il mio cruccio maggiore è quello di non aver continuato a lavorare in azienda perché in azienda avevo delle prospettive fantastiche il problema è che io non volevo lavorare in una struttura organizzata ma volevo inventarmi il mio lavoro l'ho scontata nel senso che ovviamente tanti benefici aziendali non ce l'hai tra cui il fatto che appunto a fine mese comunque succede qualcosa arriva a meno che l'azienda non fallisce comunque hai le ferie e quando torni ti danno anche i soldi perché sei stata in feria quando arriva a Natale qualcosa ti danno comunque quando stai da solo però è chiaro che ci ho messo una vita perché in realtà era una esigenza quella dell'indipendenza senza avere la preparazione a che cosa mi sarebbe toccato poi vivere io stavo in azienda dove chiaramente avevo il mio libro firma mi portavano le cose e filmavo e poi che lo faceva quando stai da solo scopri che innanzitutto per firmarci deve essere qualcuno che ha scritto la lettera per aver scritto la lettera vuol dire che qualcuno l'ha pensata l'ha scritta poi dopo di che devi avere la carta dove stamparla l'incrostolo devi aver comprato quindi la stampante c'è dubila problemi dopodiché la devi anche piegare comprate la busta cioè leccare la busta perché se no non si chiude perché non funziona mai quella collina che c'è avere i francoboli andare a posto e spedirla e sta lì davanti alla cassetta e dice speriamo che arriva speriamo che arriva questo è essere indipendenti poi dopo invece magari pian piano si organizzi per fortuna la tecnologia mi ha dato una salvata perché cellulari email internet social adesso no io le prime lezioni giravo con due borse piene di lucidi allora si andava con i lucidi slide fatte a mano perché non c'era manco la possibilità di ingrandire i caratteri della macchina da scrivere quindi te li facevi a mano e ero no non sapevi mai che c'erano le lampadine di scorta delle lavagne luminose perché saltavano e c'erano i vari modelli perché non si sa mai cioè a me è capitato cioè che cosa pensi che non possa mai succedere in un aeroporto lezione all'aeroporto nella sala piloti fantastico bellissima esperienza mistica no dici ok sto a posto no salta la luce in un aeroporto quindi lavagna luminose non funzionava c'erano tutto salta la luce quindi per fortuna c'erano le fotocopie di quello che dovevo far vedere quindi in qualche modo no gira la pagina gira la pagina gira la pagina oggi sono venuto qua con una penna che già è un retaggio culturale vecchio perché in realtà ho tutti i file sul cloud non mi dite che è se lo fa scena cloud stanno da qualche parte e stanno appoggiati là quindi dai due valigioni disumani che ci voleva Hulk che per il Sully che adesso non potete più portare siamo arrivati a che vieni come un signore e c'è tutto dentro qualcosa che in qualche modo riesco a far girare a far funzionare quindi ecco oggi essere indipendenti essere un freelance in tanti ambiti significa veramente riuscire a farcela però insomma quindi però per me è stata un'esigenza sofferta poi ora la sto godendo cioè ora sto vedendo i vantaggi di questa cosa ovviamente grazie chi altro c'è vai? onesto costante realista cinico tu quattro un onesto cinico mi mancava però un onesto cinico è bellissimo fantastico non so come puoi farlo vedere però puoi provare a raccontarlo tre racconti in cui esce fuori questa tua onestà cinica capace di vinci pulizia se poi li traduci bello mi piace comunque no? vai? passionalità empatia e curiosità vabbè la passionalità ok va bene chiaramente quello funziona ovunque l'empatia sono quei concetti come l'entropia che vuol dire? l'entropia ho capito che giordine l'empatia che cos'è? tutto mio tutto mio capisci a me andavo a dicono capisci a me entrare in sintonia sei una stazione radio entrare in comunicazione si no lo so lo so lo so in alcuni mestieri è un valore in altri mestieri forse no il giusto è la seconda no no è la seconda quindi vuol dire che insomma è importante no? come fai vedere che sei empatica parli con i lupi tipo San Francesco cammini sulle acque come il suo predecessore l'empatia è difficilissima la farla vedere l'empatia eh? eh no eh era tanto per dire non so io provoco apposta nel senso che cerco di stimolare uno sforzo maggiore prego che bellissimo ecco vedi ci siamo chiaramente quando quando io vi chiedo come fai vedere quella tua qualità può essere uno scatto che rappresenta te in una situazione ma può essere anche uno scatto che tu vai a cercare in giro un'idea per capire quello che sto dicendo è provate a prendere la vostra qualità di cui cercate un'immagine andate su google immagini e digitate quella parola poi se quella parola tipo empatia tipo boh è trasparente cioè no andate su google translate e ve la traducete in inglese quella parola è in inglese perché chiaramente le immagini in inglese sono dieci volte quelle italiane no vedete che cosa vi suggerisce google e dalla fine rendete conto a quali tipo di immagini vengono associate quelle parole e sviluppate delle idee quindi è molto interessante questo percorso perché non c'è ovviamente un giusto o un sbagliato c'è un qualcosa che attiva l'attenzione c'è un qualcosa che vi rappresenta c'è un qualcosa in cui vi identificate più siete consapevoli che queste però tre qualità devono essere in qualche modo una rafforzativa dell'altra in sintonia su poi quello che vorreste realmente fare come lavoro come occupazione come sviluppo almeno come punto di partenza poi uno arriverà dove deve arrivare se questo diciamo ha una sua coerenza funziona meglio quindi ecco il chi siete o il chi siamo o il chi sono che è il punto di partenza del macchino impersonale significa ragionare però su alcuni elementi della propria personalità del proprio modo di essere non possiamo analizzarci non possiamo stare lì col lettino è molto interessante ripeto se avete degli amici fidati ma anche i vostri genitori sono comunque un bello specchio comunque e vi fate scrivere cinque qualità magari il genitore diceva fanni cinque perché dieci stiamo due anni no cinque tre qual è secondo te la mia migliore qualità non te li fai mai il letto va bene questa casa non è un alberco quello che ti pare no ok diceva per questo video grazie vado dagli amici al bar e lo chiede agli amici al bar fine dei giochi non è un problema no 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 il problema il problema è sì certo però se allora se avete cinque amici a cui chiedete questa cosa adesso a parte degli scherzi e escono cinque cose diverse cioè ognuno non è preoccupante c'è qualcosa che non torna rispetto poi alla vostra se i cinque amici ognuno ha una sua percezione e tu ce n'hai un'altra su amici no lo so boh ok intanto è un punto di partenza su cui riflettere cioè dici le persone ognuna mi vede in un modo diverso è una qualità aggiuntiva no oceano 11 12 13 l'hanno fatti no dice chi so io Marco Zulli eh esatto ok bene probabilmente no non succede una cosa del genere succede che qualcuno vi rispecchia di più qualcuno meno però tenete conto che in genere il punto di vista degli altri è quello corretto non perché il vostro è sbagliato ma perché gli altri percepiscono di voi una quota a parte quella quota a parte che in genere è minima o in molti per questo vi chiedo gli amici migliori gli amici migliori hanno una parte più estesa non la persona conquistata perché la persona conquistata tende a esagerare si allarga cioè deve far vedere un po' deve far vedere a parte che questa cosa può essere causa di separazione perché no dice che poi da me no no beh insomma io non lo farei proprio pubblica questa cosa finché non sai quello che esce però insomma il problema è cerchiamo di capire gli altri come ci vedono possiamo imparare un sacco di cose il che significa non che se Pippo mi vede come una persona riservata mentre io penso di essere una persona empatica c'è qualcosa che non torna ok bene se qualcuno mi vede come riservato io penso di essere empatico e sono convinto di essere empatico fantastico come posso valorizzare ulteriormente l'empatia in modo tale che gli altri non mi dicono più sono riservato non c'è capito non è che Pippo è l'addobbo perché mi ha detto che sono riservato o io divento riservato perché Pippo ha detto che sono riservato io sono convinto che sono empatico sono convinto che sono abile a gestire le relazioni in pubblico per esempio fantastico io cercherò di capire come posso migliorare in questa cosa non è un problema però appunto ho un termine di paragone se no veramente me la suono e me la canto però poi appunto non ho lavoro non realizzo gli obiettivi forse non ho neanche chiaro gli obiettivi cosa di cui ragioneremo tra pochissimo cioè che voglio fare da grande allora il che voglio fare da grande è il segreto di tutte le persone che arrivano molto avanti con gli anni perché si svegliano la mattina e pensano ma che voglio fare da grande e magari c'ha 90 anni questo è il segreto che io sto copiando da un po' di anni perché dico ha visto mai ma non per arrivare a 90 anni che non è il problema non è il traguardo il problema è l'intensità con cui vivi tutto ciò che ti succede se riesci a vivere al massimo tutto ciò che ti succede è bellissimo cioè la vita è la vita chiaramente significa che devi avere degli obiettivi si significa che devi avere obiettivi vuol dire avere dei traguardi poi ci arrivi non ci arrivi vabbè ok se vado un mese se vado un mese in vacanza vado un mese in vacanza dove? allora posso fissare tutto quindi il viaggio l'orario di partenza l'orario di ritorno il treno l'aereo l'albergo la mezza pensione la pensione intera si mangia dalle 8 alle 9 anzi se mi mandano pure il menù del mese so più tranquillo bene oppure posso vivere so che c'ho quel mese prendo la vita come va è uguale cioè non è che uno ha obiettivi più precisi e gli altri ce l'hanno più vaghi ognuno ha i suoi obiettivi il problema è che appunto cosa faccio da grande è un problema che non riguarda solo chi è piccolo ma riguarda chiunque perché facebook nasce nel 2004 youtube nasce nel 2005 fino al 2006 nessuno c'ha capito nulla cioè a che serve youtube? niente non c'era nulla c'erano un po' di video aziendali poi è uscito un tizio non so se riesco a farvelo vedere che ha detto mazza che figata sta cosa si è fatto con la webcam si è ripreso mentre canta una canzoncina una cosa indecorosa però una faccia da culo l'ha pubblicata su youtube e ha insegnato al mondo a che serviva youtube lui oggi ha uno show negli Stati Uniti e la gente oggi su youtube condivide migliaia di ore di video qualcuno ci fa anche i soldi ma è dovuto venire uno con la webcam a cantare la canzoncina modello no? corrida per dimostrare quindi questo è quindi il mondo cambia continuamente succedono cose continuamente nuove non è banale pensare cosa faccio da grande cioè non è banale pensare di rimettersi in gioco tranquillamente senamente e decidere che uno si gode la strada che fa il problema di fare delle scelte non è farle e che uno pensa una volta che le ho fatte poi non torno indietro falso faccio delle scelte e poi le cambio le correggo ciò come qualità la qual era la quarta che era bellissima eh? la? il cinismo magari fra dieci anni non so più cinico no? cambio cioè le persone cambiano noi cambiamo continuamente quindi perché non possiamo cambiare scelte perché non possiamo cambiare strada perché non possiamo cambiare la nostra vita la possiamo cambiare in ogni momento se decidiamo tra l'altro oggi gli strumenti sono tali in cui è molto più facile fare questo cioè siamo più aiutati a fare questo se impariamo innanzitutto ad avere fiducia in noi stessi e poi cominciamo a imparare il metodo per poterlo fare poi ognuno sperimenta sulla sua vita sperimenta su se stesso e vede che cosa succede ci prendiamo un caffè e ci vediamo fra dieci minuti qua grazie questo si spende da due grazie grazie grazie